come vai bentornati sul mio canale vi registro questo breve video solo per avvisarvi che ci sono buone notizie per quanto riguarda l'assegno unico su rdc di febbraio faccio prima a fare questi brevi video così vi dico subito arriviamo subito al nocciolo della questione l'assegno unico su rdc che era stato annunciato nelle scorse nei scorsi giorni appunto l'inps aveva detto che i pagamenti sarebbero partiti a partire dal 28 di febbraio e lo aveva detto dal da un post che aveva pubblicato proprio sulla sua pagina facebook e che io ero andato a cercare e avevo trovato e comunque su quel post l'inps diceva che i pagamenti sarebbero come vi ho detto partiti da martedì 28 ecco allora che l'inps ha mantenuto la promessa e ha fatto partire i pagamenti infatti il 28 di febbraio pomeriggio tardi e mi pare intorno a dopo le 6 arica è iniziato a ricaricare la somma di assegno unico destinata ai figli a carico di tutti i percettori di rdc quindi sono in arrivo i pagamenti a questo punto vi consiglio di andarveli a vedere direttamente sul fascicolo previdenziale dell'inps oppure magari non so chiamate il centralino dell'inps oppure chiamate il numero di telefono quello il numero verde della carta rdc che magari vi danno un estratto conto e insomma potete vedere se è già arrivato anche a voi il pagamento con questo è tutto vi ringrazio per avermi guardato e ovviamente iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina e mettete tanti like a questo video così fate crescere il mio canale di youtube ci vediamo più tardi con un nuovo aggiornamento sempre qui su youtube l'unico canale originale il mio vi aspetto ciao